Che cosa posso farci io? Il nuovo libro degli spiriti di VB, Cerchio Medianico K, attraverso Marco, Guida interiore. Altro errore in cui incorrete è che quando una creatura soffre perché ha bisogno di voi, allora dite, cosa posso farci io se quella creatura soffre? E' lei che crea quella sofferenza. Ma noi vi diciamo, se quella creatura ha voluto quella sofferenza per voi e dal vostro cospetto spirituale, è perché voi l'avete creata perché insoddisfatti del vostro atteggiamento rispetto al vicino, rispetto a quella creatura. Quando vi viene chiesto e non volete fare, quando vi viene dato e non volete prendere, pensate che questo è un avvertimento che il karma ha per dirvi ciò che non dovete fare. Qualora un essere dunque vi chieda ciò che vi violenta e sentite che ne soffre e che non è un capriccio, ma state attenti ad essere obiettivi in questo, allora voi date, perché quella violenza che avrete fatto a voi stessi vi riscatti da ciò che prima non avete fatto.